Oggi e domani lo screening sulla popolazione studentesca di San Giovanni Teatino. In tanti al Drevin, presso della scuola elementare di Dragonara, il comune con operatori sanitari volontari, protezione civile e polizia municipale coordinata dal comandante Tomei, sta effettuando i tamponi rapidi. Intanto l'assessore alla sanità Cinosi parla anche delle vaccinazioni previste nei prossimi giorni. Tutto questo è stato detto per garantire la massima prevenzione e sicurezza in città, soprattutto in ambito scolastico. Veramente sono soddisfatto del numero che è abbastanza incendio e quindi la popolazione sta rispondendo preciso che queste prime giornate, anche domani, è solo per alunni. Poi il personale è eventualmente familiare e quant'altro. Dobbiamo vedere quanti altri tamponi laser ci dà, oggi ne abbiamo solo mille, altri 500 avremmo ritrarli in giornata, speriamo bene, per poi vedere un po' come vanno le cose. È una giornata veramente interessante e mi auguro che possa portare un esito negativo in questo caso, non positivo, perché veramente c'è molta tensione e molta preoccupazione. Siamo già a circa 400 con i dati del 5 scorso, quindi ho paura che oggi senz'altro l'abbiamo superato e questo mi rattrista. Quindi spero veramente di uscirne presto fuori. La popolazione, vediamo, sta rispondendo bene però. Sì, come dicevo prima, sta rispondendo bene, sono veramente attenti, ricevo tantissime telefonate, cerchiamo di soddisfare tutte le varie richieste, le varie preoccupazioni, cerchiamo di dare tutti i massimi consigli e vediamo che veramente l'interesse c'è, c'è paura e c'è voglia di ricominciare, quindi tutti ci tengono a controllarsi. Si tratta di tamponi rapidi, di tamponi antigenici, giusto? Sì, tamponi rapidi che ad oggi dovrebbe essere meglio, è efficiente, poi chi dice sì, chi dice no, ma io credo nella medicina, quindi se questo prodotto c'è, senz'altro sarà più che efficiente. Si va verso la riapertura delle scuole, ma quando? Allora noi, come tutte le altre scuole, l'apertura è il 10, salvo ulteriore decisione da parte della regione o anche da parte dei sindaci in base a quello che sarà l'esito di questo Dreivine. Questo Dreivine è riservato soltanto ai bambini che frequentano le scuole di San Giovanni Teatino, giusto? Sì, sono i nostri ragazzi perché noi ci tengo a precisare che superiamo il numero di 1500 ragazzi e quindi non possiamo per adesso fare di più perché, ripeto, i tamponi consegnati sono limitati. Vediamo come va e vediamo come sarà la risposta stasera, poi decideremo come proseguire per il resto. Fascia d'età? Fascia d'età, diciamo dall'elementare, cioè dalla fascia medio-piccola a salire.